La nostra amica Rossella Maggio, la sua bellissima fiata dal titolo Il bacio del sole. Ora ci arriviamo in conclusione di questa serata organizzata qui alla Galleria d'Arte L'Urlo di Rosalia e mi piace anche parlare della nostra associazione che è nata all'interno appunto della Galleria d'Arte del Rosalia che si chiama L'Urlo delle Arti ed è l'associazione che ormai insieme a cui si svolgono tutte le attività didattiche della Galleria. In chiusura ascolteremo Monica Mello e Ippolito Parinello in un brano a quattro madri molto famoso il brano è l'apprendista stregone di Paul Ducas perché non potremmo appunto a quattro madri. Monica Mello e Ippolito Parinello. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.